Buongiorno, abbiamo voluto questa conferenza stampa perché come amministrazione siamo stati sollecitati dalle farmacie private territoriali, in particolar modo Minicucci e Megale, per illustrare un servizio gratuitamente per la consegna a domicilio di alcuni farmaci per alcune tipologie di pazienti. Il servizio si chiama consegna domiciliare dei farmaci ad alcuna categoria di pazienti che presentano patologie invalidanti, che sono incapaci a deambulare e a svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita, e per cui rimangono isolati rispetto all'assistenza sanitaria e ordinaria. Questa fede farmaco, questo servizio è stato voluto appunto da una società nazionale, quindi ha una valenza nazionale, la fede farmaco, che è una federazione nazionale unitaria titolare di farmacia. Questa di concerto e col padrocinio del Ministero della Salute hanno pensato e realizzato un progetto per andare a coprire una vacazio che si è creata con i vari tagli che si sono avuti nel sistema sanitario nazionale per non isolare alcune categorie di persone, di pazienti, specialmente quelle che sono portatori di handicap, portatori di patologie gravi che li costringono a stare a letto e che sono però non isolati, cioè che non hanno nessuno a cui li accudisca. Il servizio è praticamente presente anche sul nostro territorio ed è espletato solo dalle farmacie private. Basta che l'utente componga un numero, che lo dico adesso, il numero è 800189521, al quale numero risponderà subito un call center che metterà in contatto l'utente con la farmacia di rete che si trova sul territorio e che è attiva da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, se non vado errato, orario non stop. Attraverso questo contatto che l'utente paziente domiciliare, non deambulante, con portatore di patologie che lo costringono a casa e quindi non può recarsi in farmacia, attraverso questo servizio può mettersi direttamente in contatto con la farmacia più vicina a casa e concordare con la stessa poi le modalità di far pervenire il farmaco a domicilio stesso. Questo è un servizio gratuito che non va a coprire tutta la popolazione, ma solo i pazienti aventi diritto che sono praticamente pazienti che non riescono a deambulare, pazienti che sono allettati a domicilio e che non hanno nessuno a cui li accudisca. Per quanto riguarda le farmacie, le nostre farmacie presenti sul territorio costituiscono un baluardo socio-sanitario di frontiera, di periferia e vanno a colmare questo vuoto che si è creato e questa falla che si è creato nel sistema sanitario nazionale. Nient'altro, adesso passo la parola al sindaco. Sì, chiaramente il dottore Meduri, meglio di me in quanto conoscitore della medicina per averla praticata, ha spiegato nei dettagli quelli che sono gli aspetti tecnici. Io di tecnico devo aggiungere soltanto qualcosina. vorrei leggere quello che è il comunicato stampa da parte dell'Utifar, l'Unione Tecnica Italiana e Farmacisti, e precisare che il numero verde che ha letto, io lo ripeto, l'800189521, è un numero verde nazionale. Da ieri, con il nuovo servizio di ricapito domiciliare lanciato da ieri in tutta Italia, da tutte le farmacie private, viene evidenziata la grande attenzione che tutte le farmacie italiane rivolgono ai cittadini e soprattutto, in questo caso, a quei cittadini oltre 75 anni, non di ambulanti per patologia cronica o grave, che non abbiano a disposizione persone che possono regarsi in farmacia. In questo momento di difficoltà generale, i farmacisti investono volentieri le proprie risorse a favore di soggetti più fragili. Questa attenzione verso coloro che hanno difficoltà a raggiungere la farmacia non deve però essere interpretata come un indirizzo verso la consegna domiciliare. L'Utifar, per il suo presidente Eugenio Leopardi, sostiene lo stesso Leopardi che il farmaco debba essere dispensato in farmacia, per questo motivo invita, e noi ci associamo a questo invito, chi non è impossibilitato per motivi di salute ad andare personalmente in farmacia, acquistare i farmaci di cui necessita. Perché? Perché il contatto diretto con il farmacista in farmacia rappresenta certamente una maggiore sicurezza per il paziente che in tutta serenità può domandare spiegazioni sulla posologia, ma anche su diversi confezionamenti che nel tempo di farmaci genetici rappresentano un motivo di confusione per i cittadini, non certo a favore di una corretta compilanza. Il primo bilancio sociale della farmacia italiana, su cui Utifar, l'Unione Tecnica Italiana dei Farmacisti, ha lavorato, ha evidenziato che un cittadino su tre che entra in farmacia ne esce con un consiglio. Questo è un dato significativo che conferma il ruolo delle farmacie nel tessuro sociale italiano e conferma l'importanza di entrare personalmente in farmacia evitando di delegare quanto più possibile. Questo è il comunicato stampa, perché diciamo e come noi possiamo aiutare in questo prezioso servizio e ringraziamo le farmacie per la possibilità che danno a coloro che sono in possibilità a regarsi in farmacia, noi come amministrazione, come ente, cercheremo e stiamo studiando il modo più facile di poter agevolare questa sosta davanti alla farmacie. È un tratto di strada un po' trafficato che presenta delle difficoltà dove spesso i vigili urbani hanno tempestato di contravvenzioni e tante persone. Quindi da parte nostra concludiamo questa conferenza stampa col ringraziare per questo prezioso servizio che le farmacie danno ai cittadini. Invitiamo appunto i cittadini tutti a recarsi in farmacia e a interferciarsi per quanto più possibile con i farmacisti stessi che sono sempre disponibili e garbati per avere dei maggiori consigli e avere quanto più possibile delle corrette informazioni che vanno verso la tutela della salute del cittadino stesso. Noi come amministrazione cercheremo per quanto possibile e per quanto più possibile e per le nostre competenze agevolare e far fruire meglio il traffico nelle adiacenze della farmacia stessi, magari pensando anche a dei posteggi riservati. Questa è una valutazione che stiamo facendo. Quindi ricordiamo con ricordare il numero verde, l'800189521. Sicuramente pubblicheremo sul nostro sito, sul sito del Comune, la cartina dove viene evidenziata la postazione delle singole farmacie e ringraziamo ancora una volta, non ci staccamo a dirle, tutti coloro che danno un contributo fattivo a questa amministrazione per far sì che Merito possa avere, Merito e i cittadini di Merito possano avere sempre più maggiori servizi. Il servizio è riservato a chi non può recarsi in farmacia per disabilità o per gravi malattie. Chiaramente questo si fa attraverso il numero verde, si chiama il numero verde. Diciamo che è un servizio riservato alle patologie croniche, però questo va sempre marcato con un certo consiglio da parte del farmacista. Tanto per fare un esempio, il tizio che soffre di persone alte, è sempre bene vedere se il farmaco che deve prendere, magari anche in farmacia stesso, se c'è la possibilità, gli controllano la pressione ove possibile. Un consiglio del farmacista è sempre meglio di un'autocura. Quindi invitiamo sempre il tizio ove possibile di recarsi in farmacia e non dispensare. È chiaro che dove ci sono malattie croniche il servizio viene dispensato fino a casa. Quindi questo è il taglio, il messaggio che noi vogliamo mandare. E sì, è vero che c'è questo servizio di consegna a domicilio, però dove possibile non usiamolo per passi consolidata. Affiancamolo sempre al consiglio del farmacista e al consiglio del medico.